La versione internazionale internazionale è una modificazione del sistema di stress risiduale RESTAN MTS-3000. Questa versione permette di fare un test di stress risiduale dentro delle piste o delle tubi con un diametro minimo di 120 mm e una profondità maximale dal cuore della piste di circa 300 mm. L'istrumento è composto con le seguenti componenti. Tre ruote con lavori, due pinze, due gaughe di dial, tre fili magneti, una fase di traslazione già assemblata, una slide alluminio che è disponibile con webcam e turbine e, ovviamente, un dispositivo MTS-3000. Questo video va a mostrare come assemblare questo sistema modificato. Scrutta il sistema di stress risiduale. Scrutta il filo magnetico nelle parti appropiati nell'alluminio. Sottraggite le pinze nelle parti calibrate. MTS-3000. Sottraggite il servizio MTS-3000. Sottraggite il servizio MTS-3000. Sottraggite il servizio MTS-3000. Sottraggite il servizio MTS-3000. La stradaggite le pinze di livello maggiore. Crescite il servizio MTS-3000. Scruttaggite il servizio MTS-3000. Aggiungere il nodo nero e, in tempo, mantenere il slide in posizione. Dopo questa operazione, scruite le due dottie, situate sull'interno del MTS-3000, fino a ottenere una motione fluida. Aggiungere attenzione che il slide deve essere ben fissato, per evitare il rischio di fallere. Una volta terminata l'operazione descrittata, riuscire il gruppo direttamente nella tuba o su una superficie flat, per evitare possibili movimenti o vibrazioni del gruppo stesso durante il test. La colla speciale, come l'HBM-X60, è consigliata per questa operazione, in particolare se la superficie non è magnetica. La colla speciale, come l'HBM-X60, è consigliata per questa operazione. La colla speciale, come l'HBM-X60, è consigliata per questa operazione.